bene buongiorno a tutti oggi dedichiamo queste tre ore quindi queste due diciamo lezioni questi due video per parlare di express e per parlare del server side quindi abbandoniamo per questa settimana essenzialmente react facciamo finta che non esiste per le lezioni poi ovviamente avrete da finire i laboratori da magari da finire il laboratorio da consegnare per domenica e quindi non dimenticatelo è react ma per ora facciamo facciamo un passo in un'altra parte e appunto facciamo finta che react non esista in questo momento e tutto il mondo front end non esista e appunto parliamo del server in particolare quello che vogliamo fare in questo corso in questa lezione anche e quello che vogliamo fare è implementare un piccolo semplice minimale server web in javascript ovviamente quindi utilizzando node per fare principalmente due operazioni poi se ne possono fare molte altre ma principalmente due per ospitare delle piai dinamiche quindi che cambino e per supportare la persistenza dei dati in un database quindi principalmente per fare nel nostro caso lo useremo principalmente per fare da interfaccia rispetto ai dati di un database quindi eviteremo il problema che avete avuto finora in react che quando aggiungevate un per esempio un elemento alla vostra task list poi aggiornavate la pagina queste modifiche venivano perse perché ovviamente non c'era un salvataggio persistente di queste informazioni quindi aggiungiamo un server che ci permette di avere questa persistenza ci permetta di appunto recuperare le informazioni e ci permetta anche di avere molteplici client quindi molteplici versioni molteplici istanze della vostra applicazione react che parli con un unico database e quindi possa condividere le stesse informazioni con molteplici client cosa che invece per ora non potremmo avere perché tutto girava all'interno della singola applicazione react e non c'era nessun tipo di sincronizzazione un server può anche essere ovviamente utilizzato per ospitare contenuto statico immagini video che possono essere forniti a molteplici di nuovo client come vi ho scritto su slack in queste slide c'è una parte su http che noi adesso salteremo perché voi avreste già dovuto guardarla e in teoria dovreste già conoscere http però se avete domande su http questo è il momento buono per farle quindi vi lascio un paio di minuti se qualcuno ha da scrivere qualche domanda su queste poche slide su http che sono di riassunto oppure se non avete domande segnalate che non avete domande e che siete sufficientemente esperti di http o confidenti nell'uso ok allora mi fido di queste 56 risposte che sono arrivate e gli altri ovviamente si sentano liberi di di parlo di scrivere o di parlare e giusto per fare una panoramica perché poi una cosa che ci servirà quindi per mettere tutti nella stessa pagina guardiamo solo questa tabella e noi oggi e nel prossimo futuro useremo principalmente questi quattro metodi http get post put delete non andremo a scrivere il pacchetto a mano ovviamente ma lo useremo a livello di server facendo sì che server risponda a queste specifiche chiamate http ora ricordatevi quando avete a che fare con queste specifiche chiamate http che il get non ha un corpo nella richiesta mentre il post ce l'ha mentre il put ce l'ha e il delete può averlo come non averlo da standard e allo stesso modo il get ha sicuramente un corpo nella risposta che riceve il browser il post può avere una risposta tipicamente non ce l'ha o spesso non ce l'ha però può averla e il put ha una risposta tipicamente e il delete di nuovo può avere o meno una risposta quindi questo è quello che il protocollo diciamo così per prevede non è poi ovviamente ovviamente c'è un minimo di flessibilità soprattutto sul mail e anche il put dovrebbe in pratica spesso è un mail più con yes e però è previsto che abbia una risposta se si vuole esattamente come il post quindi giusto questo per ricordarci quattro metodi che useremo principalmente alcuni avranno sicuramente una richiesta un corpo nella richiesta che il browser manda un server attraverso http altri invece non ce l'avranno potrebbero averla come no e alti e dalla parte invece della risposta alcuni avranno sicuramente una risposta che ritorneranno come per esempio la get altri potrebbero averla o potrebbero non averla questa risposta ecco e di default visto che abbiamo parlato di form di default il browser ogni browser è capace a gestire i form con un metodo get e un metodo post all'interno del browser poi via javascript uno può fargli usare tutti i metodi che vuole ma il browser di default è capace a gestire form solo con get e con post questo per ricollegarci a quello che abbiamo fatto nel corso e allora parliamo di express express è un application server per node il node l'abbiamo utilizzato come linguaggio di programmazione sul computer ma ovviamente possiamo utilizzarlo anche per scrivere un server web che girerà su un server nel nostro caso sul nostro computer e node tra l'altro ha già un modulo che si chiama http che serve per attivare un server web e serve anzi per gestire la comunicazione su http però è un modulo molto di basso livello non particolarmente friendly non particolarmente amichevole in quanto richiede comunque che uno gestisca a mano vari dettagli sulla comunicazione http in quanto appunto è un wrapper per il protocollo http quindi nel nostro corso ma anche in pratica noi usare un framework che ci faciliti ci nasconda un po di dettagli specifici di del protocollo http e ci permetta di ottenere gli obiettivi di utilizzare appunto un server per fare il lavoro da server senza andare a impazzire dietro alle specifiche del protocollo http come invece uno è più portato a fare con il modulo http di node e uno dei framework web più popolari al momento quantomeno per node e anche uno abbastanza facile da utilizzare come vedremo fra poco è express che ha ovviamente un sito su cui si può anche avere un po di documentazione vedere come si usa eccetera allora come si installa express beh come abbiamo installato qualunque altro pacchetto qualunque altro modulo di node se abbiamo un progetto inizializzato con npm init possiamo fare npm install express e poi possiamo scrivere per esempio il contenuto del nostro server in un file possiamo chiamare index.js ma possiamo anche chiamare server.js o in qualunque altro modo ci piaccia e lanciarlo con node esattamente come lanciavamo un qualunque programma node quindi iniziamo a fare queste operazioni sul nostro esempio come dicevo prima di far partire la gestazione abbiamo questa cartella express starter che è vuota e l'abbiamo aperta in visual studio code quindi fatemi aprire un terminale e fatemi scrivere npm init diamogli pure i valori di default al momento non ci interessa specificarli diversamente e a questo punto facciamo npm install express lui come solito crea file package.json node modules e tutto e creiamo anche un file che chiamiamo index.javascript dove andremo a scrivere il codice che serve a utilizzare express e possiamo anche fare già use street come sappiamo essere buona norma e possiamo anche importare express const express uguale require express quindi come abbiamo importato il node se ricordate inizio corso qualunque cosa che abbiamo installato come djs o SQLite3 benissimo torniamo di qua ora abbiamo predisposto il nostro ambiente come facciamo a lanciare il nostro server express allora il modo che immaginiamo è quello di scrivere node il file principale in cui abbiamo importato express quello lì che adesso abbiamo chiamato anche noi index.js cosa fa una volta riempito con un minimo una minima quantità di codice che serve a express per funzionare questo comando lancia il server attraverso appunto nel file specificato e lo tiene in esecuzione finché o il server va in crash e quindi si pianta da solo oppure è interrotto dall'utente per esempio con ctrl c o premendo stop in un ambiente di sviluppo ovviamente dato che il server lanciato con node index.js viene lanciato e rimane in esecuzione per sempre finché appunto o non viene in crash o non viene interrotto se uno fa una modifica mentre il server è in esecuzione questa modifica non viene riflessa in esecuzione ma bisogna stoppare il server fare la modifica, salvare la modifica e poi far ripartire il server altrimenti la modifica non viene vista, non viene propagata, non viene messa in esecuzione perché viene eseguita la versione del file, del server che è stata lanciata all'origine non quella modificata allora esiste un tool molto comodo che si può installare a livello di sistema operativo che si chiama nodemon che essenzialmente, che si installa quindi così a livello di sistema operativo npm install meno g, meno g sta per global quindi installa a livello di sistema operativo non a livello di singolo pacchetto che cosa fa questo nodemon? questo nodemon fa la stessa cosa che fa node quindi lancia un file eseguibile javascript esattamente uguale a node ma in più monitora ogni cambiamento nel file javascript collegati a quel file lanciato per cui se voi avete un server in esecuzione con nodemon e fate poi una modifica al file nodemon se ne accorge stoppa e fa ripartire il server in automatico quindi questo è molto comodo in fase di sviluppo per cui uno può lanciare il server fare una modifica e vedere subito in automatico in tempo reale la modifica che ha fatto quindi se volete vi consiglio, è molto comodo noi lo useremo adesso di installare nodemon a livello di globale di sistema operativo così la potete usare in qualunque progetto voi vogliate non solo in questo specifico che stiamo facendo oggi io ce l'ho già installato quindi non vado a reinstallarlo ovviamente allora quali sono i primi step i primi passi con Express? qual è il server minimo che possiamo scrivere? beh il server minimo che possiamo scrivere è questo indicato nelle slide che adesso io vado a fare copy e incolla tranne questo primo pezzo che abbiamo già fatto l'import e lo andiamo a analizzare nel codice così lo proviamo a eseguire e vediamo che cosa fa quindi abbiamo questo server minimo secondo le slide e manca una parentesi tra l'altro quindi salvo e faccio nodemon io ce l'ho già installato index.js e va in crash perché rec is not defined fatemi vedere perché ah perché non si è installato a Express no però è più facile che non si è installato a Express mettiamoci per la parentesi ma sì mancava la parentesi perché non vedo Express qui ah no eccolo qua colpa mia mancava la parentesi grazie quindi sì ci sono due errori nella slide correggiamola subito mettiamoci la parentesi qui e mettiamoci un'altra parentesi qui che mancava così è corretto per la prossima volta va bene ok dicevamo abbiamo lanciato questo server cosa fa questo server questo server lancia crea un'applicazione partendo da Express e fa definisce delle root adesso andiamo a vedere un attimino più in dettaglio questo e poi lancia il server cosa vuol dire lancia il server che quando se tutto questo va a buon fine lui stampa a console server ready eccolo qua infatti e mette a disposizione un server sulla porta 3000 quindi se noi qui nel browser scriviamo localhost 3000 scriviamo localhost 3000 vediamo faccio un po' di zoom vediamo che in questo caso il server ci stampa hello world e notate che se io faccio un cambiamento e salvo nodmon mi fa ripartire il server per cui se io faccio il refresh ovviamente mi mostra il cambiamento che abbiamo eseguito allora perché qui visualizzo hello world perché qui abbiamo definito una root analoga alle root che abbiamo definito in in react la settimana scorsa o due settimane fa ma questa root ha una caratteristica ha delle caratteristiche leggermente diverse quali sono queste caratteristiche fatemi solo andare a capo per chiarezza e tutte le root potremmo definire più root esattamente come abbiamo fatto in react tutte le root hanno un metodo questo metodo scritto qui dopo app in questo caso get rappresenta il metodo http che questa root a cui questa root deve rispondere quindi cosa dice questa root dice quando io ricevo quando il server riceve una richiesta get all'indirizzo localhost 2.3000 slash quindi subito qui come in questo caso allora manda una risposta al browser con scritto dentro hello world quindi come potete immaginare al post invece oltre a questo get uno potrebbe scrivere app.post se vuole fare una post oppure app.put o app.delete e sempre tra parentesi mettere come primo parametro il percorso il path relativo dopo localhost 3000 come secondo parametro una callback rec.res che ha due parametri rec.res e poi che cosa succede quando il server riceverà in questo caso una put a questo specifico a questo specifico indirizzo e quindi fare qui scrive del codice che dica appunto che cosa facciamo quando il server riceve quella put quindi qui cosa succede come dicevo prima quando il server riceve una get alla root sulla root quindi su slash mando hello world che cosa sono rec.res rec.res sono due oggetti che il server riceve e può ovviamente manipolare e inviare nel caso di res che rappresentano l'oggetto della richiesta http e l'oggetto della risposta http quindi dentro request noi abbiamo le informazioni sulla richiesta http in questo caso questa get che il browser ha mandato al server o che i browser hanno mandato al server nella risposta invece abbiamo un oggetto predisposto per rispondere a questa specifica richiesta quindi per fare una risposta http appropriata per il get e noi possiamo mandare questa risposta possiamo prendere questo prototipo diciamo così questa parte iniziale questo oggetto che rappresenta la risposta http che ci viene fornita da express possiamo aggiungere delle cose nella risposta se vogliamo in questo caso aggiungiamo il contenuto della risposta e possiamo mandare indietro la risposta in questo caso mandiamo indietro una stringa di test che si chiama hello world però noi potremmo anche per esempio mandare indietro un request punto method un request punto method ci dice qual è il metodo http a cui diciamo qual è il metodo http associato a quella specifica richiesta in questo caso sappiamo essere una get quindi questi sono oggetti che hanno delle proprietà che noi possiamo utilizzare e possiamo sia mandare indietro una risposta ma possiamo anche scrivere ovviamente console.log request punto method e quindi stampare nella console stampare nella console quello che ci serve per esempio quindi qui possiamo far tornare hello e poi la console possiamo stampare request punto method quindi abbiamo anche la console che possiamo ovviamente utilizzare come un qualunque programma javascript che abbiamo scritto finora e qui mettiamo un path tipo update per esempio quindi in questo caso abbiamo definito un server che accetta due chiamate una get e una put la get sulla root e la put sull'update per cui se io qui vado a scrivere slash prova mi arriva indietro un messaggio d'errore che mi dice non posso fare una get su slash prova perché non c'è una root definita nel server che risponde a slash prova in quanto qui l'unica get che abbiamo è su slash e poi su update c'è una put quindi se anche qui scrivessimo update per esempio avremmo lo stesso messaggio d'errore perché su update c'è una put e non c'è una get se noi fossimo interessati se noi fossimo interessati a avere uno specifico path per esempio update che funzioni su tutti i metodi http e poi ovviamente dentro il corpo di questa callback qui dovremmo andare a discriminare se siamo in una get se siamo in una put se siamo in una delete in una post possiamo anche usare app.all app.all intercetta tutti i metodi http possibili quindi qualunque metodo http viene intercettato su update viene intercettato da questo codice da questa callback e da codice relativo tutto chiaro fin qui? ok questo è bene o male scritto nelle slide questo che vi ho appena detto per cui fatemi andare avanti ecco come abbiamo visto sia l'oggetto di richiesta sia l'oggetto di risposta hanno delle proprietà noi abbiamo visto il punto method ma hanno altre proprietà per esempio se la richiesta ha un corpo della richiesta come nel caso di una post per esempio allora c'è un request punto body che ci permette di accedere al corpo della richiesta o un request punto query o un request punto parameter se la root ha dei parametri all'interno del suo percorso quindi se la url diciamo ha dei parametri o query se ci sono delle query string all'interno della url e poi ce ne sono molti altri ma questi sono ovviamente i principali che si utilizzano per esempio c'è IP che ci dà l'IP del server ma probabilmente non è un qualcosa che spesso c'è bisogno di ottenere e allo stesso modo l'oggetto di risposta oltre a send che abbiamo visto che come potete intuire manda una risposta di qualche tipo non importa cosa mettiamo in quel send deve essere una risposta che ovviamente il browser è capace a gestire quindi una stringa va bene ma potremmo anche scriverci dell'HTML all'interno lui manda la pagina HTML indietro quindi manda qualcosa via dal server e poi ce ne sono altri tre che sono utili interessanti c'è il redirect che fa un redirect della richiesta quindi arriva una richiesta a un certo indirizzo io faccio un redirect a un altro indirizzo che è sempre gestito dal server o da un altro servizio and che manda la fine del processo di risposta perché magari non c'è una risposta da mandare non c'è un corpo di una risposta da mandare quindi c'è una richiesta e poi è un ok ho fatto questa operazione va tutto bene fine non devo restituire un l'equivalente del nostro hello world non devo restituire una stringa mi basta dire fine così e poi c'è anche un metodo che si chiama punto json che funziona in maniera analoga a send ma invece di mandare un tipo qualunque di dato indietro al browser manda o indietro a chi ha fatto la richiesta manda un tipo di dato specifico che è il json voi sapete cos'è un json perché poi c'è nelle prossime slide quindi giusto per sapere se ok quindi posso andare un po' più veloce sul json bene ok come appunto generiamo una risposta l'abbiamo già detto l'abbiamo già visto oltre a send e a land che manda una risposta vuota e termina ovviamente la risposta bisogna sempre mandare una risposta quando riceviamo una richiesta http è un protocollo request response quindi tutte le volte che riceviamo una richiesta lui si aspetta indietro una risposta che sia vuota che sia piena ma bisogna mandare una risposta altrimenti rimane pending la chiamata http oltre a send and end e a json che abbiamo visto prima nella tabella possiamo anche impostare uno stato http nella risposta quindi dire ok manda questa risposta hello world manda questo json ma in più aggiungici uno stato specifico 200 created 404 not found 500 internal server error quindi mandaci anche uno stato associa perché è previsto da protocollo uno stato specifico a questa richiesta questo è utile se uno vuole segnalare qualche tipo di errore per cui si è una get invece di far intercettare gli errori di default da Express, come abbiamo visto, uno potrebbe dire, guarda, se tu fai una get a, nel nostro caso, nel nostro caso dell'esempio sui corsi, corsi slash un codice di corso che non esiste, io posso mandarti indietro un messaggio d'errore che ti dice il corso non esiste e associare a quel messaggio d'errore lo stato HTTP corretto, che è 404, perché quel codice non esiste, quindi è not found. Quindi è un'informazione in più importante e propria per il protocollo HTTP che possiamo mandare al bisogno, ovviamente. E questo ci fa anche vedere che possiamo concatenare, ovviamente con send e end, che devono essere le ultime cose, varie cose a questo res. Quindi possiamo dire res.status.send, in questo caso, oppure res.status.end. In questo caso associamo prima a res lo stato e poi ci aggiungiamo anche, ok, adesso manda tutto questo che abbiamo assegnato prima, in questo caso lo stato, in un messaggio vuoto. Oltre a questo c'è anche res.download che permette all'utente di scaricare la risposta. Quindi passa un oggetto dal server al client per il download. e il redirect potete immaginare come funziona. C'è uno slash che dice dove pare il redirect. Una cosa carina, ovviamente, noi qui cosa facciamo in Express? Possiamo scrivere tante di queste API, tante di queste root, quante ce ne servono, e fare varie cose su vari indirizzi in base a quello che vogliamo ottenere nella nostra applicazione web e restituendo o col send o col json delle informazioni che più ci interessano per il nostro caso specifico. E oltre a fare questo, una cosa molto carina, molto pratica anche di Express, è questo concetto di middleware. Express definisce questi middle come funzioni che vengono chiamate per ogni richiesta. Quindi io posso definire un middleware che è una funzione, in realtà JavaScript, posso definirlo io, posso installarlo da middleware che già esistono per Express, e sono appunto funzioni che vengono chiamate automaticamente quando Express riceve una richiesta o di un certo tipo o ogni richiesta in generale. Questi middleware sono una funzione molto simile alle nostre callback che abbiamo visto adesso, la callback della root, nel senso che anche loro hanno una richiesta e un oggetto risposta, quindi possono anche loro processare una richiesta HTTP e mandare indietro una risposta, ma hanno anche un terzo parametro che si chiama next, che serve ad attimare il prossimo middleware, se esiste, oppure la prossima root. Quindi è possibile creare una catena che data una richiesta HTTP passi da middleware al middleware dopo, al middleware dopo, e poi infine alla root che magari ha bisogno di processare quella richiesta. Cosa può essere utile un middleware? Beh, un middleware, per esempio, esiste un middleware di logging, per fare il log di quello che succede. E questo ovviamente è un middleware che è una funzione che va a intercettare ogni singola richiesta e ogni singola risposta. Per cui ci dirà, ok, questa volta ho mandato 200K, questa volta ho mandato 404, questa volta c'è un errore. Ci dirà quello che succede, fa il log di quello che succede. Il middleware si può anche specificare non solo in generale per tutte le root, ma anche in una specifica root, semplicemente mettendo come parametro tra il path e la callback la callback del middleware, quindi la funzione del middleware. In quel caso, quel middleware va utilizzato, viene a essere utilizzato solo all'interno di quella root e non per tutte le root. Un middleware si può definire come si definisce una funzione con questi tre parametri, se uno volesse, oppure si può installare come un middleware per il log o è già installato in Express come il middleware che gestisce il JSON, per esempio, che gestisce le richieste JSON e una volta averlo installato, dichiarato o quando lo si vuole utilizzare, comunque bisogna registrare il middleware in questo modo. sempre app che è l'oggetto Express che abbiamo costruito e poi invece di mettere il metodo HTTP come abbiamo fatto per le root, usare il metodo use. Quindi app.use middleware, il nome del middleware, la funzione che rappresenta il middleware, utilizza il middleware per tutti i percorsi. app.user path, middleware invece usa quel middleware solo per alcuni specifici path, quindi solo per alcune specifiche root che poi saranno probabilmente dichiarate dopo. Express ci offre anche la possibilità attraverso un middleware che si chiama appunto static, in questo caso express.static, di definire la possibilità di servire, di far sì che serve e fornisca dei file statici, quindi dei file che sono pronti così come sono, non devono essere lavorati, non devono fare niente come delle immagini, per esempio. Allora, questo static definisce che tutto quello che c'è nella cartella public, che deve essere una cartella che esiste nel server, venga fornito come file statico, quindi semplicemente preso e mandato via, senza fare alcun tipo di elaborazione, come un'immagine, o comunque anche un file, ma è comunque qualcosa che non vogliamo manipolare all'interno del codice. È pronto, è finito, è non andare via. E questo ovviamente funziona anche se vogliamo applicarci una specifica path, per esempio, tutto quello che è sotto localhost.3000 slash static è un qualcosa di statico. E questo, quando lo si usa, è il modo tipico di utilizzarlo, definire un path che definisce qual è l'indirizzo, l'inizio del percorso sotto il quale ci sono tutti i file statici che il server vuole e appunto definire. E quindi in questo caso tutto quello che è nella cartella public, sia in questo caso che ovviamente in questo, tanto è la stessa cosa, viene gestito come file statico, quindi viene semplicemente inviato al browser o comunque al client che ne fa richiesta. Abbiamo già visto che ci sono dentro request dei parametri che ci possono essere utili come query e body. Qui ci sono degli esempi su cosa si intende per query. Cosa si intende per query? Questo è quello che c'è nella query. Quindi è una URL con qualcosa, punto di domanda dei parametri, delle coppie chiave valore, diciamo anche così in questo caso, eventualmente separati da una e-commerciale che sono appunto messi in questo parametro query e poi noi possiamo fare query.user e andiamo a prendere in questo caso fc o queries.pass e andiamo a prendere in questo caso 1, 2, 3. Quindi possiamo recuperare dalla URL queste informazioni e usarle nel codice attraverso rec.query user e pass se ci servissero. Ovviamente dobbiamo sapere come si chiama, come si chiamano questi due parametri user e pass. Possiamo anche ovviamente prendere delle cose dal body attraverso rec.buddy e allo stesso modo se abbiamo un campo nel body che si chiama user possiamo scrivere user, punto user e se abbiamo un campo nel body che si chiama pass possiamo scrivere body punto pass con una differenza rispetto al caso della query che nel caso della query il questo è automaticamente preso dall'url quindi non c'è bisogno di nessun middleware da aggiungere da far partire all'interno di Express nel caso di un oggetto JSON o un oggetto di un corpo di una richiesta che arriva da un certo form per esempio dobbiamo installare dobbiamo eseguire il middleware corretto quindi se abbiamo un JSON come corpo della richiesta di un messaggio HTTP che arriva dobbiamo scrivere appuse express punto JSON se è un form classico HTML scriveremo invece express punto URL encoded per processare i dati di un form classico HTML noi nel nostro caso con React useremo praticamente sempre questo perché manderemo i dati non riceveremo mai non riceveremo mai il nostro server che riceve un form fatto e costruito in HTML tradizionale ma lo intercetteremo come avete fatto con l'endor submit e poi lo manderemo 99 su 100 in JSON al server che a quel punto lo gestirà in questo modo quindi se noi vogliamo fatemi ok ancora dire una cosa i path allo stesso modo possono essere come abbiamo visto stringhe semplici oppure possono essere dei pattern come espressioni regolari sia all'interno dei stringhe sia come espressioni regolari vere e proprie oppure anche degli array in cui specifico più path quindi nel caso degli array questa get risponde sia a questa URL che a questa URL che questa espressione regolare e fa la stessa cosa per tutti il path può anche essere parametrico quindi e ovviamente si può recuperare da questo oggetto rec.params quindi io qui potrei scrivere per esempio app.get fatemelo copiare app.get studenti slash 2.id e qui fare per esempio ciao rec.params.id per cui se io qui vado a scrivere studenti slash 5 sì ovviamente se si chiamano le variabili nel modo giusto prendo dalla URL il parametro che ho definito in questo caso 5 se io scrivo studenti slash Luigi ovviamente prendo il parametro di qualunque tipo sia qualunque cosa scritto dopo studenti viene interpretato come parametro e quindi lo posso in questo caso ristampare e posso anche controllare se mi servisse nel codice se quel parametro deve essere un numero posso controllare che effettivamente sia un numero e non sia una stringa e comportarmi diversamente nei casi in base al bisogno quindi attraverso params appunto qualcosa andiamo a prendere il qualcosa che è definito nel path con questa sintassi due punti un nome e questo nome può essere davvero a piacere possiamo anche scrivere nome e ovviamente qui vi ho messo il punto nome e tutto continua ovviamente a funzionare nello stesso modo quindi questo ci viene comodo nel caso in cui abbiamo una collezione di qualcosa in questo caso vogliamo avere tanti studenti e allora invece di avere tanti app.get con scritto studenti slash matricola del primo studente app.get slash studenti matricola del secondo studente possiamo usare questo come una variabile che ci permette appunto di avere un parametro che ci parametrizza questa collezione diciamo così di studenti che abbiamo in questo contesto e anche in questo caso si può specificare se si vuole con un'espressione regolare nel caso in cui volessimo aggiungere questo livello di controllo già nella URL un altro middleware un middleware che vi citavo che è interessante che alla fine useremo è appunto il middleware per parelog questo middleware per express non è un middleware già fornito da express ma un middleware da installare quindi si chiama morgan e ne possiamo per esempio installarlo npm install morgan e poi andare a importarlo quindi const morgan uguale require morgan e middleware andiamo a scrivere app.use morgan dove morgan è la la callback che definisce come che chiama appunto il middleware e la callback del middleware questa callback in questo caso richiede un parametro una stringa che dice di quale tipo diciamo a quale livello volete il log tiny e dev sono praticamente equivalenti dev colora anche le informazioni che sono contenute in tiny quindi possiamo usare dev e cosa succede con questo middleware che in questo middleware è definito per tutte le path quindi quando noi lanciamo il nostro server sì ovviamente dopo aver creato l'applicazione quando noi lanciamo il nostro server vedete che ci stampa questa nuova riga che prima non c'era che cosa ha ricevuto un server se ha ricevuto una get all'indirizzo slash perché questa a riga 13 la risposta che sarebbero date un 304 e ci ha messo 2,254 millisecondi forse 2,254 è più probabile perché non ci ha messo due secondi ci ha messo circa due millisecondi a fornire la risposta perché in questo caso era già disponibile nel non è cambiata la pagina quindi era già disponibile quindi anche se noi continuiamo a scrivere slash cosa abbiamo detto studenti 2,5 vedete che cambia con get studenti 5 304 eccetera e se noi scriviamo solo slash studenti ci viene il messaggio di default come prima e vediamo che abbiamo ricevuto una get su studenti che ha generato un 404 ci ha messo un certo tempo e ha trasferito un certo numero di byte tra il server e il client quindi ci dà queste informazioni di log che può essere utile per capire qual è il problema che abbiamo riscontrato o perché qualcosa non funziona un altro middleware che è assolutamente utile che useremo e non adesso perché non abbiamo un qualcosa da non abbiamo i dati per esempio da un form è un middleware che si chiama express validator che serve per validare le informazioni allora ricordate quando abbiamo parlato dei form sia in html che in react abbiamo detto bisogna validare le informazioni del form bisogna validarle con html bisogna validarle nel client e poi non bisogna fidarsi del tutto del client ma bisogna anche validarle sul server ecco questo è un modo per validare quelle informazioni sul server questo middleware cosa fa? questo middleware mette a disposizione dei metodi che si chiamano check che prendono come parametro il check il parametro che viene passato al server nel nostro caso se questo fosse un form di login con username password avrà due campi username due punti luigi password due punti qualcosa allora fa un check su questi due e dice che username deve essere un email quindi se non è un email dà degli errori di validazione e allo stesso modo che la password deve avere una lunghezza minima di 5 per cui se la password è test non va bene se la password è test test passa questo check e quindi si può andare avanti quindi è una validazione quantomeno di formato o di lunghezza ulteriore che facciamo sui dati che mandiamo dal client al server e come vedete questo si applica ovviamente un middleware che si applica solo a certe path a certe route non si applica a tutte perché non tutte riceveranno delle informazioni da validare quindi questo poi lo useremo nell'esempio un po' più completo che faremo nella prossima ora qui ci sono poi un elenco di altri middleware che vedete ce ne sono tantissimi e uno che useremo sicuramente è questo che si chiama Passport che è un middleware per fare che ci dà tutta una serie di funzionalità per fare l'autenticazione e l'autorizzazione è all'interno di Express quindi questo lo useremo per fare il login verso la fine del corso però vedete ce ne sono tantissimi altri e si possono anche scrivere al volo e possono sempre comparire altri middleware in ogni momento ok domande fin qui su questa panoramica di Express come vedete al netto di qualche del concetto di middleware o altro alla fine si tratta di avere un file javascript in cui andare a scrivere delle root ed eventualmente applicare dell'interware in base a quello che vogliamo fare domande curiosità sì no ok ok allora chiudiamo questo primo esempio e passiamo a a vedere come possiamo utilizzare Express per il nostro caso specifico e qual è il nostro caso specifico con React per cui vogliamo Express perché ovviamente qui possiamo fare varie cose ma probabilmente non ci interesserà mandare stringhe come hello sul browser come facevamo in questo caso come facevamo su localhost 2.3000 adesso ovviamente non funziona perché è spenta non ci interesserà mandare stringhe ci interesserà fare qualcosa di diverso quindi chiudiamo questo progetto e fatemi aprire l'altra cartella che nel repository che avete che dovete aver scaricato che è React Score Server che io ho qui allora React Score Server è un progetto già npm vedeteci il file package.json con dentro un solo una sola dipendenza che è SQLite3 la stessa libreria che abbiamo visto quando abbiamo affrontato appunto SQLite il database e poi ha un readme che andremo a riempire e ha un database exam.sqlite che è lo stesso database che abbiamo utilizzato tempo fa quando facevamo esempi sul database quindi contiene i corsi esattamente come in React Score che abbiamo fatto la settimana scorsa contiene i corsi contiene gli esami contiene i voti degli esami le date eccetera scusate poi abbiamo un file che si chiama server dove potete immaginare andremo a inserire express che al momento fa solo un import di questo file che si chiama dao.js e questo file dao.js cosa contiene? Contiene una serie di query al database per fare alcune operazioni specifiche però sono query esattamente come quelle che abbiamo visto quando abbiamo parlato del database settimane fa quindi abbiamo una query per prendere tutti i corsi che cosa fa? Che fa una select asterisco from course una query per prendere i corsi identificati da uno specifico codice quindi select from where e così via una per tutti gli esami una per aggiungere un nuovo esame in maniera analoga a quello che facevamo con React Score una per aggiornare un esame esistente una per cancellare un esame e sono tutte query che usano le promise come sappiamo che serve per SQLite 3 per questa per questa libreria e quindi fanno la query e ritornano una nuova promise una nuova promise che viene ritornata in maniera con resolve se la query è andata a buon fine se invece la query non è andata a buon fine viene fatta il reject passando l'errore che viene passato che viene restituito dal database quindi in questo caso qual è l'errore? l'errore può essere per esempio che la query è sbagliata o che non c'è una tabella course o che il database non si chiama exam.sqlite quindi l'errore che viene generato da SQL in questo caso da SQLite in questo caso in altri casi per esempio sul get viene rifiutata quando viene sempre generato un errore per esempio la query non è valida ma possiamo anche passare e vedete qui a riga 39 un risolvere la query perché la query viene viene eseguita in maniera corretta quindi la promise può essere risolta ma viene risolta con un errore che il corso non è stato trovato perché? perché io posso fare una query su un corso dove il codice non esiste nel database e quindi la query funziona non dà errore restituirà un risultato con zero righe e quindi quando ci sono zero righe possiamo risolvere la promise non passando il corso che è stato trovato perché non è stato trovato nessun corso ma con un messaggio con un oggetto che dice errore corso non trovato e così via e poi è analogo per tutti gli altri metodi ok quindi questo lo diamo per assodato ci sono dei metodi per accedere al database metodi che sappiamo scrivere da settimane a settimane in teoria quindi quello che andiamo a fare adesso prima di tutto è e poi passiamo a alla parte che ci interessa è installare express perché ci servirà installiamo anche morgan così abbiamo il il middleware di login e installiamo anche quell'express validator che abbiamo detto prima quindi installiamo express morgan e l'express validator che probabilmente ci serviranno tutti sicuramente ci serve express il log probabilmente pure è express validator è facile che lo useremo quindi installiamole tutte e tre e mentre loro si installano tanto non ci interessa un granché che si installino proseguiamo con il che cosa usiamo a fare un server in un certo senso allora noi non abbiamo bisogno di un server che ci fornisca delle pagine http delle pagine html perché ci pensa express a gestire tutta quella parte ma quello che ci serve è che quello che vorremmo avere è che noi da una parte abbiamo la nostra applicazione che nel nostro caso è react è un frontend web e react ma potrebbe anche essere altra roba potrebbe essere anche un'applicazione mobile o potrebbe essere un'altra applicazione react che casualmente ha bisogno entrambe hanno bisogno di parlare per esempio con lo stesso database o di avere le informazioni dello stesso database e allora come facciamo in pratica queste frecce che può essere appunto con un database o può essere con dei servizi da qualche parte e allora come facciamo se la nostra applicazione parli con dei servizi con il servizio meteo per recuperare informazioni dal meteo e allora come facciamo noi e come si fa in generale in questo caso abbastanza le cose coincidono come si fa come facciamo noi come facciamo in generale da una parte non possiamo avere l'applicazione che accede direttamente a un database perché l'applicazione ricordate girerà in un browser e magari il database sta su un server da qualche parte oppure l'applicazione girerà nel browser dell'utente che lo sta visualizzando e il servizio meteo girerà a casa di chi gestisce il servizio meteo quindi su un altro computer da qualche parte raggiungibile attraverso internet e quindi prima di tutto quello che ci serve ci serve che questo database e questo servizio meteo forniscano delle url forniscono delle url che rappresentino le operazioni che un'applicazione è legittimata a fare su questo database o su questo servizio perché magari non tutto sarà possibile da fare allora voi già iniziate a immaginare che queste url saranno le root in express quindi qui ci potrebbe essere un server per esempio express che definirà delle root che mappano delle specifiche query al database o delle specifiche query a questo servizio qualunque esso sia e questo è la parte diciamo sotto verso il database però le url sappiamo l'abbiamo visto adesso con express che le root in express possono mandare quello che vogliono possono mandare delle stringhe possono mandare delle pagine html possono mandare delle immagini possono mandare tutto quindi ci serve non solo delle url ma ci servono anche delle informazioni sapere quali informazioni l'applicazione può chiedere attraverso queste url e come queste informazioni gli vengono restituite gli vengono restituite come file html come file immagini come file json come file di testo come file xml e che cosa c'è all'interno di quei specifici file se sono file testuali c'è un campo che si chiama nome o un campo che si chiama name oppure non c'è un campo che si chiama nome perché in base alle informazioni che ci sono ovviamente l'applicazione può leggerle e operare non può ogni volta immaginarsi che cosa ci sia o andare a indovinare quindi è la stessa cosa quando questo riceve un'informazione dall'applicazione l'applicazione deve fornirglile in un formato con dei campi specifici che questo questo servizio che fornisce le url nel nostro caso immaginiamolo express sia capace di capire quelle informazioni e abbia tutte le informazioni che gli servono per per esempio fare la query sul database e allora in pratica e anche nel nostro caso queste informazioni noi le codifichiamo in json che voi mi avete detto sapete già che cos'è benissimo quindi io qui vado più veloce ma giusto per allinearci un pochino json è un formato testuale di rappresentazioni che è un sottinsieme di javascript quindi fa parte dello standard di javascript e è un formato testuale che almeno nell'intenzione originaria far sì che fosse facile per gli umani da leggere da scrivere quindi dato un file json facile da capirlo ma anche facile per le macchine sia parsificarlo che generarlo e ha un media type specifico all'interno del del web che è application json quindi quando mandiamo una richiesta http con un json dobbiamo ricordarci di impostare come content type del pacchetto http application json perché ovviamente nel corpo stiamo mandando un qualcosa che è un json ora voi mi dite che sapete già cosa è json quindi guardiamo questo piccolo esempio allora i json sono costruiti in maniera analoga simile al javascript e consistono di oggetti racchiusi tra parentesi graffe o di array racchiusi tra parentesi quadre esattamente come gli array in javascript gli array possono avere un solo parametro alla volta mentre gli oggetti sono costituiti come gli oggetti javascript da chiave diciamo e valore i tipi di dato che un oggetto può avere al suo interno un altro oggetto i tipi di dato che json supporta sono le stringhe tutte queste con le virgolette doppie i numeri oppure appunto al suo interno un oggetto può avere un altro tipo di oggetto e oltre ai numeri anche gli array anche vero falso e il valore null quindi questi sono gli unici tipi di dato che potete mettere in json stringhe numeri oggetti array vero falso e null e le stringhe a differenza di javascript devono essere obbligatoriamente tra virgolette doppie non tra virgolette singole risponde alla domanda della chat facile per le macchine da parsificare e generare allora il parsing è l'operazione opposta alla generazione quindi un computer può generare questo file di testo perché è un file di testo in questo formato ma è anche facile per un computer ricevere il file di testo e convertirlo in un oggetto javascript in un oggetto python in un oggetto di un qualunque linguaggio di programmazione quindi il contrario della generazione la lettura e la conversione in un qualcosa che non sia testo le immagini vengono rappresentate come stringhe all'interno di un json le immagini all'interno di un json sarebbe meglio non metterle nel senso un'immagine intera all'interno di un json quello che uno se uno deve passare un'immagine o passa l'immagine e allora non passa il json oppure passa la url a cui l'immagine è disponibile all'interno di un json l'immagine è bene che stiano salvate su disco da qualche parte non in un json non in un database ma piuttosto si passa il riferimento a dove questa immagine può essere trovata o l'immagine vera e propria se c'è bisogno ma se proprio voleste codificare un'immagine all'interno di un json cosa che non è non è una buona pratica verrebbero rappresentate come stringhe come stringhe molto lunghe ma come stringhe come si fa in javascript questa generazione questo parsing del json beh in javascript c'è un un oggetto che si chiama json scritto maiuscolo che ha due metodi uno che è stringify e l'altro che è parse che appunto servono per generare e parsificare il json stringify converte automaticamente un oggetto javascript in un oggetto json quindi se abbiamo un oggetto javascript che ha first name john last name smith address un altro oggetto javascript for number un array javascript lui genera da dall'oggetto javascript costruito in questo modo l'oggetto normale javascript costruito in questo modo lo converte automaticamente tutto in in json quindi lavora anche in maniera recursiva sugli oggetti che sono contenuti all'interno ma dato che un oggetto sappiamo in javascript può anche contenere dei metodi e dei valori che non sono che sono undefined in quel caso nel caso della conversione i metodi e i valori undefined vengono ignorati quindi se voi avete name due punti undefined questo non viene convertito in json viene saltato questo così come se avete un metodo toString il metodo toString non viene dell'oggetto non viene ovviamente convertito in json quindi vengono convertite le proprietà diciamo così testuali o numeriche o di oggetti che però non siano undefined e non siano funzioni quindi questo è dato un oggetto javascript lo converto in json e poi json.parse fa l'opposto dato un file di testo rappresentato in questo modo che però è testo che possiamo scrivere lo riparsificare quindi interpretato interamente come una stringa tutto al suo interno perché è testo lo possiamo rimettere all'interno di un oggetto javascript e quindi fare poi tutte le operazioni che possiamo fare sugli oggetti javascript ciclare andare a prendere una chiave specifica perché a quel punto diventa un oggetto come tutti gli altri ecco ovviamente dato che javascript in questo caso json.parse non sa se quello è un oggetto di un tipo specifico magari quello è un oggetto che potrebbe essere creato come djs probabilmente no ma facciamo finta quindi avere un tipo specifico in questo caso non lo sa e tutti gli oggetti sono invece generati col parse con il prototipo come fossero gli oggetti standard tradizionali quindi con le parentesi graffe quindi non sono diciamo così non hanno un tipo non possono avere un tipo specificato poi si può ovviamente convertirli se si vuole o aggiungere delle callback o aggiungere dei parametri a questo metodo parse usare altri metodi per convertirli in oggetti più sofisticati o più precisi però di default dato un file json che appunto viene rappresentato come una stringa otteniamo un oggetto tradizionale classico in javascript che possiamo manipolare come tutti gli oggetti javascript quindi se noi ripensiamo a questa nostra figura abbiamo detto che l'applicazione ha delle informazioni che sono codificate in json che è questo formato testuale e ripeto noi possiamo anche scriverlo possiamo andare qui adesso e scrivere un json nome due punti e questo è un json se lo troviamo in un file possiamo poi leggere il file e leggerlo come un'intera stringa e quindi le informazioni le passiamo e le riceviamo in questo modo da questo nostro server ma chi conosce l'url del json può scaricarsi tutto il nostro database no ni forse dipende se fate le cose bene no adesso ci arriviamo le informazioni sono in json ma il punto che risponde a questa domanda è quali informazioni vogliamo mettere in json perché non è detto anzi sicuramente non faremo un mapping uno a uno tra tutto il nostro database è un unico gigante file json no ma quello che succede e che adesso andiamo a vedere è che le nostre queste url che mettiamo qui magari rappresenteranno singole porzioni del database che chi scrive questo modulo express qui deciderà di che vuole che siano pubbliche diciamo così ad altri quindi magari prendiamo l'esempio del nostro degli esami magari noi vogliamo avere un un json che rappresenta tutti i corsi ma magari non offriremo un json e una url che permette di ottenere tutti i corsi in formato json ma magari non vogliamo facciamo l'esempio dare la possibilità di aggiungere un nuovo corso al nostro database perché i corsi per un'applicazione sono solo in lettura e allora in questo caso possiamo avere possiamo non avere una url che permette di aggiungere il corso e quindi di conseguenza ignoriamo qualunque json che ci richieda di aggiungere un corso perché semplicemente non abbiamo fornito quel servizio quindi il quali informazioni mandiamo in json e quali informazioni riceviamo dal json lo decide il motivo per cui lo state facendo ma lo decide chi sviluppa questo questi servizi e queste url in modo che possa appunto fornire alcune informazioni dal database ma non fornirne altre per esempio o fornire appunto certi metodi per accedere per modificare il database e altri metodi per non fare e non fornire niente se non si vuole farlo ok Jacopo allora come andiamo a scrivere queste url queste url no in teoria potremmo scriverle come vogliamo ma diamoci qualche regola qualche buona pratica per scrivere queste url no perché noi potremmo scrivere url non lo so per prendere tutti i corsi potremmo scrivere una url slash prova che è totalmente no che funziona perché io quando faccio una getta prova prendo tutti i corsi in formato json però non è esattamente una url che comunica un'informazione allo sviluppatore per esempio per cui deve ricordarsi che slash prova torna i corsi e slash test torna gli esami no che tecnicamente funziona però non è molto furbo non è molto non facilita per lo sviluppatore dalla parte soprattutto dell'applicazione in questo caso React non gli facilita a ricordarsi che prova ritorna i corsi e test e ritorna gli esami no allora cerchiamo di strutturare le url in maniera che invece sia fattibile per lo sviluppatore ricordarsi che cosa lo sviluppatore dell'applicazione React ricordarsi che cosa può fare più o meno quella url allora in pratica nel mondo dello sviluppo un paradigma che si usa tanto si chiama REST noi non andiamo a vedere questo paradigma REST in dettaglio ma quello che vi raccontiamo che vi racconto qui è fortemente ispirato a questo paradigma e però senza andare a vedere il dettaglio ed è un suggerimento di utilizzo per strutturare delle url in modo che siano ragionevoli e utilizzabili ricordabili anche in maniera facile e in maniera prevedibile da parte sia di chi crea un server che lo può fare sempre in maniera più o meno standard sia da chi usa un applicato che crea un'applicazione per esempio React per interrogare il nostro server e allora noi definiamo due tipi di componenti nell'url definiamo delle collezioni e definiamo degli elementi le collezioni come dice il nome sono un insieme una lista di oggetti o di persone quindi per esempio abbiamo students che è una collezione perché è plurale sono tanti studenti o anche courses è una collezione perché di nuovo è plurale sono tanti corsi e poi abbiamo un elemento un elemento quindi nella url è un pezzo di url che rappresenta un singolo componente di quella collezione in maniera univoca quindi questo è tipicamente un id un identificatore quindi per esempio s123456 è la matricola che identifica univocamente un elemento all'interno della collezione studenti e01zqp è il codice del corso che identifica in maniera univoca l'elemento all'interno del corso quindi url dopo il nome del dominio e eventualmente la porta e quando vogliamo prendere l'intero insieme o vogliamo agire sull'intero insieme di oggetti usiamo slash una collezione un nome plurale di una collezione studenti corsi task elenchi sedie qualunque cosa possa rappresentare una collezione e poi dopo se invece vogliamo raggiungere un singolo elemento modificare un singolo elemento all'interno della collezione scriviamo slash è un identificativo per il singolo elemento la matricola il codice del corso l'id un id qualunque 1 2 3 4 un nome uno username se è univoco eccetera quindi questo è su come scriviamo le url quindi nomi non verbi e nomi plurali per le collezioni per gli identificativi invece identificativi e nomi concreti perché così lo sviluppatore può ricordarsi che cosa fa slash courses sa che lì si aspetta delle informazioni sui corsi slash item sa che si aspetta delle informazioni su delle cose ma quali sono queste cose no? è sicuramente più specifico courses più chiaro courses e quindi possiamo definire le url con questa struttura prima la collezione e poi se ci interessa recuperare o aggiornare o modificare il singolo elemento di quella collezione slash un identificativo di quell'elemento a questa url cosa ci agganciamo? ci agganciamo delle operazioni e quali sono queste operazioni? sono sicuramente le operazioni classiche crea rimuovi aggiorna leggi eccetera ma poi possiamo anche aggiungere delle informazioni trova per esempio quindi noi avremo da una parte delle url dall'altra del json e poi abbineremo delle operazioni in modo che a certe url tramite certe operazioni venga restituito un json e ad altre url tramite altre operazioni venga restituito un json diverso o debba essere mandato dall'applicazione un certo json e quali sono queste operazioni a cui associamo le url sono i metodi http e come li usiamo li usiamo come diciamo così come ci immagineremmo di utilizzarli la get la get serve per recuperare informazioni quindi se facciamo una get su una url che rappresenta la collezione recupereremo le informazioni di quella specifica collezione se decidiamo di avere ovviamente una get che se decidiamo che quelle informazioni devono essere sposte al di fuori del nostro database per esempio quindi se facciamo una get sulla collezione otteniamo tutti gli insiemi tutta la collezione tutto il dettaglio della collezione se facciamo una get sull'elemento allora invece otteniamo le informazioni di quello specifico elemento post post serve per creare un nuovo elemento partendo da quali informazioni beh dalle informazioni in json che l'applicazione react nel nostro caso manderà attraverso una chiamata posta al server e dato che noi non abbiamo quando creiamo un identificativo dell'elemento che andremo a creare perché lo stiamo creando sul server quindi non può ancora sapere qual è il suo id allora facciamo una creazione sulla collezione diciamo alla collezione studenti aggiungimi un nuovo studente e dagli un id secondo le regole del server put in maniera analoga al post serve per aggiornare un elemento esistente questa volta dato che aggiorniamo un elemento esistente non andiamo a fare una put sulla collezione ma andiamo a fare una put sulla url che rappresenta il singolo elemento da aggiornare e poi la delete che mi sembra sia chiaro andiamo a cancellare un singolo elemento che non vogliamo più avere quindi se vogliamo vederlo in maniera tabellare in questo modo se facciamo una get sulla collezione otteniamo la lista di tutti gli elementi di quella collezione se facciamo una post sulla collezione aggiungiamo un elemento a quella collezione evitiamo di fare una put e una delete sulla collezione perché è molto rischioso aggiornare di colpo un'intera collezione una tabella intera di un database o cancellare di colpo un'intera collezione quando vogliamo aggiornare o cancellare facciamolo fare dal singolo sul singolo elemento quindi una put sul singolo elemento rimpiazzerà i valori di quell'elemento voglio cambiare il voto del nostro esame una delete lo cancellerà il singolo elemento una get sul singolo elemento restituirà le proprietà di quel singolo elemento le informazioni di quel singolo elemento e invece una post sul singolo elemento non ha senso di esistere rispetto a quello che ho detto prima perché non possiamo creare niente all'interno del singolo elemento possiamo solo creare cose all'interno della collezione e qui e qui c'è un esempio se noi abbiamo la collezione di cani con la get otteniamo l'elenco di tutti i cani con la post ne creiamo uno nuovo all'interno del nostro server evitiamo questi sono scritti ma fate finta che non ci siano se invece facciamo una get sul singolo cane il cane identificato con 1, 2, 3, 4 una get restituisce le informazioni rispetto a questo specifico cane la razza il peso gli anni eccetera una put se esiste aggiornerà le informazioni magari cambiamo il peso del cane e una delete lo cancelliamo dal nostro elenco memorizzato sul server e se abbiamo un database lo cancelliamo anche dal nostro database se dovessimo rappresentare delle relazioni possiamo farlo in questo modo possiamo aggiungere un'altra collezione dopo l'identificativo quindi noi vogliamo avere per esempio in questo caso la lista dei corsi che sono seguiti da questo studente che fa parte ovviamente dell'elenco di tutti gli studenti iscritti al Politecnico viceversa se vogliamo avere la lista degli studenti di uno specifico corso possiamo scrivere courses lo specifico corso che siamo interessati slash student ricopriamo gli studenti iscritti allo specifico corso che ovviamente fa parte di tutti i corsi del Politecnico vedete c'è sempre un pattern che ci permette di ricordarci come strutturiamo le cose sia per noi che scriviamo i server diciamo che scriviamo i server sia per chi deve sviluppare un'applicazione che sa che questa sintassi che ci sia scritto corsi id del corso o studente oggi si è scritto studenti id dello studente corso è comunque lo stesso pattern che si ripete quindi sa sempre cosa aspettarsi e se si vuole per esempio fare una ricerca quindi fare cose più complicate rispetto a singole relazioni uno a uno o appunto richieste di intere collezioni o di singoli identificativi quindi si può usare la query che abbiamo visto prima quindi punto di domanda qualcosa uguale e commerciale qualcos'altro uguale a qualcos'altro e commerciale eccetera eccetera se servissero più parametri se no anche un e commerciale screen name uguale twitter e basta non è necessario scrivere tutto con l'e commerciale ovviamente come abbiamo detto prima quando ci sono degli errori quando ci sono delle eccezioni è bene utilizzare dei stati http corretti quindi quando abbiamo per esempio se andiamo a fare una get su una collezione su un id su un elemento di una specifica collezione e questo elemento non esiste è buona norma ritornare lo stato 404 perché ovviamente quello è un oggetto not found noi non siamo interessati perché ci saperebbero altri due crediti e non è il caso no? in questo momento di andare a vedere i dettagli delle progettazioni di API adesso lo faremo insieme progetteremo insieme un API per il nostro esempio degli esami così vediamo queste cose in pratica JSON le URL questi percorsi collezioni elementi eccetera ma se volete invece approfondire per conoscenza personale o per utilizzi futuri questa guida di API design di Google è fatta molto bene e utilizza questa filosofia REST di cui noi qui abbiamo raccontato solo alcune cose e abbiamo preso ispirazione da questo modo di procedurale di costruire URL di passare informazioni ma ovviamente qui c'è molto più dettaglio e molto più approfondimenti anche esempi vari di diverse possibili soluzioni diversi casi particolari eccetera che escono dagli argomenti di questo corso ora come facciamo tutto questo in Express beh le root le abbiamo già viste useremo app.get se vorremmo delle get app.post se vorremmo delle post eccetera se vogliamo prendere un elemento useremo il suo parametro come abbiamo fatto prima con name e useremo il middleware express.json per passificare il json che eventualmente arriva a una richiesta per esempio da un post e se invece abbiamo una risposta useremo res.json per mandare la risposta in formato json quindi non useremo send non manderemo del testo ma useremo res.json e passeremo l'oggetto javascript che rappresenta il json che verrà poi creato in automatico da express quando abbiamo dei parametri di input è sempre buona norma validarli quindi questo è ripeto tre volte ma ricordiamoci di avere la validazione così come l'abbiamo sul client anche sul server prima di fare alcuna operazione perché se noi aggiungiamo un nuovo esame al nostro elenco di esami e i parametri dell'esame che riceviamo in json non sono corretti andiamo a compromettere il nostro database aggiungendo dati a caso o dati sbagliati e qui c'è un esempio ma adesso andiamo a farlo a mano ok anzi prima di fare l'esempio domande no sì va bene allora prima di fare l'esempio che ovviamente faremo qui in realtà abbiamo già installato tutto quindi adesso andiamo a scrivere prima qui nel nostro readme le nostre API andiamo a fare la progettazione dell'API scrivendo qui vedete qua ci sono già la URL qui scriveremo che cosa vogliamo fare qui la URL che useremo il metodo HTTP una riga che descrive che cosa facciamo a modo di documentazione se volete qual è la risposta qual è il corpo della risposta qual è la richiesta se c'è eccetera quindi prima progetteremo l'API che ci servono e poi inizieremo a implementare alcune di quelle API in express tutto questo dopo la pausa di diciamo dieci minuti quindi riprendiamo alle dieci e cinque qui ci servono qui ci servono qui ci servono